e chiamatelo allora razze italiane ora vedremo sfilare i vincitori dei bob delle razze italiane le razze italiane sono 16 adesso vedremo quante ne sono presenti allora vi presento il giudice di questo raggruppamento che è il signor Pierluigi Buratti razze italiane Bracco italiano Spinone italiano Lagotto romagnolo piccolo lebriero italiano maltese ecco qua sono solo 5 ieri ne avevamo di più abbiamo un Bracco italiano uno Spinone italiano sia il Bracco che lo Spinone sono bianco arancio c'è anche il rovano marrone sia dello Spinone che del Bracco e poi abbiamo un Lagotto romagnolo un cane da tartufo piccolo lebriero italiano italiano è un maltese che è un cane da compagnia Bracco piccolo lebriero e maltese vediamo adesso il movimento del piccolo lebriero italiano piccolo lebriero italiano e del maltese e del maltese al terzo posto per il Bracco italiano al terzo posto per il Bracco italiano per il Bracco italiano è un bel giovane e del Bracco italiano Grazie a tutti.